visual and innovation design è un corso biennale con un programma didattico unico in italia il corso integra le aree di visual design multimedia e advertising con una connessione e integrazione adeguata allo scenario contemporaneo portiamo i nostri studenti oltre i confini delle tradizionali tecniche del progetto grafico preparandoli un ruolo di regia della comunicazione attraverso la connessione di media tradizionali con quelli più innovativi e tecnologici spingiamo i ragazzi a pensare in modalità nuove e cerchiamo di aiutarli ad applicare questi nuovi modi di pensare nei loro progetti proprio per formare i creativi del domani l'affroccio didattico è ottimo infanto le lezioni si svolgono con dei professionisti con i quali ti puoi confrontare ora sto lavorando in uno studio di grafica che si occupa di branding l'internazionalizzazione dell'offerta formativa in rufa non avviene soltanto in aula un esempio concreto è il programma charts of freedom un gruppo di nostri studenti una volta all'anno si lega a new york per realizzare dei progetti individuali formare i nostri ragazzi per affrontare le sfide che sono alla base del nuovo tipo di design human centered design grazie a tutti